barone vassallo 17 settembre 2022 buonasera a tutti siamo una settimana dalla grande pagliacciata dalla grande buffonata e naturalmente il tempo mette tutti al proprio posto i re nel proprio regno e i pagliacci dei loro circhi e allora guardando vedendo tutto quello che stanno facendo adesso i candidati dell'uno e dell'altro schieramento mi è rivenuta in mente una bellissima canzone di 30 anni fa di Pierangelo Bertoli che praticamente prevedeva già quello che sarebbe successo oggi voglio farvela ascoltare potere che detta le regole sopra i lupi economici non resta il sangue di chi pagherà sopra i lupi economici non resta il sangue di chi pagherà ma non resta il sangue di chi pagherà ma non resta il sangue di chi pagherà ma non resta il sangue di chi pagherà Gli altri spari lo sappiamo dove stanno La nostra guerra non si spegnerà E torneranno a parlarci di lacrime Dei risultati della povertà La nostra guerra non si spegnerà 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 E che avrebbe poi in realtà non portato il bene a questa nazione Ma sappiamo benissimo che quel grande periodo che finì La nostra guerra non si spegnerà 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 Noi parliamo poi del rimanente, del rimanente in cui c'era un noto dottore che aveva parlato male dei sacri rimedi, però adesso ha detto, ieri ha detto, dice, ma non è che hanno fatto proprio così male, solo che quello che era il loro, la loro funzione durava soltanto due mesi. Io sono sempre andato contro a questo fatto, quando lui soltanto pochissimi mesi fa aveva detto tutt'altro, aveva parlato di effetto in negativo, aveva parlato di tantissime altre cose. Io mi vedo quasi catapultato a trent'anni fa. Trent'anni fa, quando iniziò Tangentopoli, e questa canzone era praticamente di quel periodo lì, si pensava che combattere quella politica sarebbe stato facile, combattere quel malgoverno, che comunque a quei tempi era governo mille volte migliore di questo. Sarebbe stato facile e alla portata di tutti. Trent'anni dopo siamo a un decimo del benessere, a un decimo della sanità mentale, a un decimo della nostra sicurezza economica, della nostra serenità. Nessuno fa più famiglia, nessuno investe più in una casa, tra l'altro quasi nessuno compra più automobili, che era la prima cosa un tempo. Anche se oggi purtroppo vediamo che sono soltanto macchine elettriche per persone che hanno... Diciamo, vabbè, non voglio continuare questo discorso. In finale, abbiamo visto che la strada di legittimare le persone già trent'anni fa, gli stessi che stavano al governo, o comunque quella oppo finzione che poi fu quasi un cavallo di battaglia di quel signore che oggi ha oltre 80 anni e che si ripresenta in politica, abbiamo visto che non serve a nulla. Sappiamo che c'è soltanto in questo momento un'unica arma, unica arma, che è quella dell'assenzionismo. L'assenzionismo che, come disse Andreotti, è l'unica cosa che li farà fermare dal procedere in questa terribile spirale di morte, questa recessione e distruzione in cui ci hanno spinto e che ad oggi non riusciamo veramente più a poter portare avanti e poterci sopravvivere, soprattutto. Ci vediamo domani. Domani saremo dall'ingegner Negri. Ciao a tutti.